il carissimo giuseppe chinè procuratore oggi ha voluto fare lo sborrone giustamente perché in questi mesi sta parlando di tutto serie b serie b serie c di azione e il signor giuseppe ha chiesto nove punti di penalizzazione 20 mesi in circa di radiazione per quanto riguarda paratici 16 mesi a dannelli ma dov'è tutta questa radiazione radiazione in serie b che poi la fin fine ora andassi guardare dai guardate ragazzi ma che poi ho visto anche le altre ammende per altre squadre per le plus valenze chissà per che motivo le altre società italiane non ci sono non ci sono inter napoli meno tutto tutti puliti tutti tutti puliti nove punti di penalizzazione per come motivo perché vorrebbe il procuratore oggi alla corte federale vorrebbe che juventus rimanesse fuori dalla champions league vi faccio una bella risata una bella risata noi potremmo anche perdere prendere anche noi punti di azione che poi tra una cosa e l'altra dopo le risposte di avvocati sicuramente si arriverà a un patteggiamento verrà 4 5 quello che saranno ma voi pensate che juventus si fermi qua voi dando 9 punti di penalizzazione credevate di tenere juventus fuori dalla champions league state attenti state molto attenti siete ridicoli tutto sto casino i canali anti juventini juventini un processo qui la rischiamo la serie b chiamano di azione e fuori tutti tra tre cose da tata 9 punti di penalizzazione ha richiesto il dottor procuratore giuseppe mi faccio una bella risata alla faccia ducaz siete veramente tristi la juve non morirà mai e siete veramente ridicoli in generale fino alla fine forza juve grazie a tutti